I dati dei primi 9 mesi riguardanti le PMI abruzzesi mostrano dati negativi. A chiudere sono state 701 attività e nel dettaglio Pescara ne ha perse 180, Chieti 185, Teramo 176 e L'Aquila 160. Tra le difficoltà più grandi l'accesso al credito, il fisco, la burocrazia e le infrastrutture ormai obsolete. Il quadro è negativo, la ripresa se c'è non riguarda le piccole e micro imprese che noi rappresentiamo, quindi riguarda la grande impresa. I dati che abbiamo fornito alla stampa sono molto eloquenti, c'è un settore che da 4 trimestri vede dati negativi e c'è un dato sul credito eloquente. Tra giugno 2014 e giugno 2015 il settore artigiano è stato finanziato per il meno 8% rispetto alla media nazionale. L'appello è rivolto alla Regione, un appello che si rivolge direttamente alla richiesta di fondi per i confidi e cioè quegli intermediari che arrivano a sostegno delle imprese quando le banche non soddisfano le richieste di credito. Le opportunità le deve fornire la Regione, noi abbiamo fatto tante proposte, sul credito una su tutte. Se la Regione crede sui consorsi fidei che da 50 anni svolgono un ruolo fondamentale, li deve ripatrimonializzare attraverso fondi propri. Infine una nota a margine, i fondi liberati dalla Regione nell'ultimo bando, ben 8 milioni, risultano inaccessibili per le microimprese che non hanno a disposizione le cifre richieste per gli investimenti previsti dal regolamento. Le microimprese rappresentano il 96% del territorio regionale. Chiaramente i dirigenti regionali devono mettere in campo le loro professionalità, chiaramente con l'ausilio delle associazioni perché delle iniziative ce ne sono tantissime. L'ultimo bando da 8 milioni di euro è molto eloquente. Crediamo che poche aziende possano intercettare questi fondi, soprattutto le piccole e micro. Grazie. Grazie.